ragazzi questa qua no io parlo a nome del negozio e dello staff del negozio red parlerà a nome di red ci tenevo a ringraziarvi davvero 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 tantissimo perché tra virgolette è il primo anno in cui davvero riusciamo a chiuderlo insieme perché l'anno scorso tra covid e cavolate e avendo aperto poco prima della fine dell'anno non l'ho neanche considerato questo è il primo anno d'attività insieme siete stati davvero pubblico delle persone, dei clienti fantastici e siete davvero stati il motore di tutto questo perché l'unica soddisfazione personale professionale che possiamo trovare nel fare io il mio lavoro che poi è il negozio lui il suo lavoro che poi è lo stanno chiedendo tutti principalmente crea contenuto video corregimi se sbaglio perché dire cosa fai te è sempre è sempre difficile no no va bene va bene l'unica soddisfazione siete voi cioè non mi diverto a spiegare perché un fucile ha determinate caratteristiche e lui è a recensirlo probabilmente se non per vedere il vostro sorriso vedere la vostra soddisfazione è il supporto è tutto il supporto sapere che comunque è utile che non è semplicemente io che sparo stronzate lui che fa l'incazzato e fine esatto 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 molti di voi moltissimi volevo ringraziare anche a parte una parentesi a parte su quelli che sono venuti da tutte le parti d'Italia perché ho da tutte le parti d'Italia a trovarci per cercare Red per cercare War per vedere il negozio e ci fa anche le inaugurazioni o agli eventi cioè vedere che comunque c'è gente che viene apposta gente che ci chiede l'autografo gente che vuole fare la foto ci riscaldate ragazzi volevo farlo questo discorso sulle storie Instagram il 31 però poi pensando che il 31 potrei non essere nelle condizioni di fare questo discorso quindi solamente perché sarà molto stanco molto stanco grazie ragazzi grazie davvero speriamo e qui vi spoilerò già il 2022 sarà carico ma carico forte di novità alcune partiranno subito proprio subito ai primi giorni le altre arriveranno durante l'anno ma sono davvero davvero tante cose io stesso a pensarci tutto grazie e per voi vuoi dire qualcosa? la tengo corta al posto del solito sono molto contento perché siamo partiti da soli tre anni a lavorarci seriamente e abbiamo già ricevuto un grandissimo seguito molte persone sono su youtube da più tempo e non sono arrivati dove siamo arrivati noi e sono anche dell'idea che non facciamo contenuti a chiappa views più di tanto ci manteniamo su un un equilibrio sì facciamo un video ogni tanto che è stupido ma la maggior parte è contenutistico cioè ti spiego com'è una cosa ti spiego questo prodotto ti dico cosa ne penso e io che mi sono riavvicinato al mondo del software non sapevo niente e so cosa vuol dire ricominciare e scoprire che ci sono un sacco di cose da sapere per poter effettivamente giocare e divertirsi al 100% sono contentissimo di poter fare questa cosa e basta questo è quanto è davvero bello pensare vedere tutto dall'esterno è davvero un bel quadro e ricordate che siete voi a decidere cosa deve fare il software quindi il negozio quindi il canale quindi i vostri compagni di squadra quindi tutto il panorama di software italiano siete voi giocatori in primis quindi onestà e sempre 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 stay angry stavolta l'ho detto io grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti